un cordiale saluto amici amiche di tv6 e bentornati all'appuntamento col meteo il tempo in graduale miglioramento su buona parte della penisola grazie al rinforzo graduale dell'anticiclone dell'azore che pian piano si espande verso est e conquista le nostre regioni a partire dai settori più occidentali il maltempo comunque continuerà ad interessare all'estremo sud calabria e sicilia in particolare qui ci aspettiamo ancora dei forti rovesci anche locali nubi fragili sui versanti ionici quelli più esposti al maltempo sull'abruzzo si prospetta un repentino miglioramento del tempo dopo la nuvolosità le nevicate sparse degli ultimi giorni l'alta pressione porterà il sole in corso della giornata su tutta la regione ancora un po di nubi residui sul vastese il val di sangro anche l'alto sangro ma non ci saranno fenomeni annessi nel corso della giornata il sole conquisterà anche questi settori le temperature in leggerissimo aumento nelle massime fino a 6 8 gradi le minime rimangono molto basse tra il meno 4 e 4 gradi con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo appuntamento